Tutta della titta Taglie Forti Uomo Questa è la nostra tuta che abbiamo fatto realizzare in collaborazione con la Maxwell e abbiamo il piacere di presentarvi Ma prima di parlare della tuta e della tabella taglie voglio parlare proprio di come noi pigliamo le misure Pigliate una vostra maglia, una vostra felpa chiudetela come ho fatto io in questo momento andate a misurarlo da lato a lato e fate riferimento alla nostra tabella taglie che vi appare sulla vostra destra Ora vi voglio ripresentare quello che è stato il progetto che abbiamo fatto sia io che mia moglie Antonella Abbiamo deciso di realizzare queste tute usando un discorso di un jersey estivo parlando di un modello con il discorso della cerniera intera in due varianti di colore ma parto da questo che ho sul manichino che mi piace leggermente di più Quindi abbiamo una tuta con cerniera intera il discorso di due tasche, in questo caso con l'applicazione esterna la regolazione della cappuccio, in questo caso con la colis e il cappuccio in questo caso in tinta Per quello che riguarda il pantalone di questa tuta ve lo faccio vedere sul tavolo che mi è più comodo Il pantalone ha un discorso di una regolazione in questo caso con la colis interna quindi la classica regolazione del pantalone della tuta Abbiamo alzato un attimino quello che è il discorso del fascione qui con l'elastico per rendere veramente molto più morbido e dare questa sensazione di morbidezza e di elasticità Due tasche in questo caso nel pantalone le troviamo al lato mentre la parte posteriore abbiamo preferito fare il pantalone pulito senza la tasca Il fondo di questo pantalone abbiamo usato un discorso di un polsino che in questo caso non è un polsino molto stretto quindi non va a chiudere molto quello che è il piede l'abbiamo lasciato leggermente più morbido ha allungato anche questo considerate che è un polsino che ha una lunghezza di 8 cm quindi ha un'elasticità veramente molto morbida realizzata in due varianti di colore quindi abbiamo usato il giallo con il blu il verde con il nero beh, che dire tagli forti uomo rimini siamo sempre una taglia ma grazie